Sulle tribune della Matteo Allegra abbiamo anche la stampa internazionale che ci onora della sua presenza, Ralf Hildebrand, che conosce abbastanza bene anche la lingua italiana e che naturalmente sta osservando anche il livello del calcio dilettantistico della Serie D Lombarda presente per la gara di Coppa Italia tra Villavalle e Ponte San Pietro. Finora è stata una partita secondo me molto equilibrata, il miglior giocatore ho visto a cento campo per il Ponte San Pietro come al solito Ruggeri e Ferrero Pinto e dall'altra parte il numero 28 Gomes e il numero 10 Misemba Croti. Spero che nel secondo tempo vediamo anche un po' di gol, partita piacevole, io sono venuto, visto che oggi non ci sono impegni con Atalanta, a vedere specialmente il Ponte San Pietro, visto che l'ultima partita con la primavera dell'Atalanta è stata veramente una bellissima partita e speriamo che tutto il campionato è così. Complimenti anche per il suo splendido italiano molto sciolto, come vede la situazione qui in Italia da un punto di vista calcistico? So che lei segue anche con tanta passione l'Atalanta, anche se poi abbiamo scoperto che la sua vera squadra del cuore ha altri colori diversamente nerazzurri, questo lo possiamo svelare, me lo confermano anche i suoi compatrioti al seguito. È sempre nerazzurro e per noi c'è solo l'Adea in Italia e in Germania chiaramente il Bayer Leverkusen. Il grande problema è che ieri tutte e due le mie squadre del cuore hanno perso tutti e due con un gol di vantaggio, ma il campionato è ancora lungo, perciò speriamo di ritornare. Ma in questo momento, secondo me, i più grandi problemi hanno altri, non noi della Dea, ma quelli della Juve. Ma allora, dopo il primo tempo non è che l'abbiamo fatto bene bene. Secondo, sono abbastanza soddisfatto. È chiaro però che abbiamo preso un gol evitabilissimo su palla inattiva e siamo andati un po' in difficoltà. Però nel secondo tempo abbiamo creato, secondo me, delle buone trame di gioco e delle occasioni che potevamo sfruttare meglio. È chiaro, dopo un mese di preparazione abbiamo fatto 5-6 amichevoli, però abbiamo cambiato molto. E quindi questa partita ci voleva per capire un attimino a che punto siamo e fare delle valutazioni. Le indicazioni sono che nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo cercato di giocare la palla un po' di più. Siamo arrivati in zona offensiva abbastanza bene, solo che non abbiamo concretizzato. Eh sì, domenica si inizia, è chiaro che adesso trarremo delle valutazioni, però c'è da lavorare, stare tranquilli e cercare di migliorare nei nostri punti deboli che anche oggi si sono evidenziati. Mister, è dall'inizio rimpresa, è entrato sul suo per trovare peso in avanti. Sì, diciamo che lui ci dà forza, attacca bene gli spazi, la squadra ne ha beneficiato di questo e ha fatto una buona prestazione. E fine di gara al 44esimo del secondo tempo colferai poco lontano dalla base del palo, potrebbe essere l'1-1. Sì, abbiamo avuto delle, ripeto, delle buone occasioni nel secondo tempo, ma anche lo stesso Susso ha avuto un'occasione in mezzo all'area che non abbiamo sfruttato. Siamo arrivati al tiro due o tre volte, però mi tengo per adesso queste piccole soddisfazioni, insomma, poi vediamo di migliorare. Ma ripeto, c'è stato solo, adesso è chiaro che il risultato siamo amareggiati, però non abbiamo neanche così demeritato, insomma, se vogliamo guardare la prestazione sia dei singoli sia del gruppo. È chiaro che noi siamo ancora così un cantiere perché abbiamo cambiato parecchio e i ragazzi si devono conoscere e cercare così un'amalgama un po' più concreta. Eccoci qua con il primo impegno ufficiale di Coppa Italia, di Serie D, siamo con Giacomo Curioni. Passiamo al primo tempo e poteva starci un 3-1 con la amorosa la palla a gol mancata da Ferreira Pinto al trentesimo del primo tempo? No, beh, ma a parte il primo tempo mi sembra che sia stata fatta una buona partita con un atteggiamento da campionato e questo è l'aspetto più importante. È vero che negli episodi, il primo tempo, con un po' più di determinazione e di precisione avremmo potuto fare qualche gol, però ritengo che la partita sia stata molto combattuta, equilibrata e la squadra sia stata ben in campo. Siamo alla prima partita della stagione Coppa Italia. Fa morale, fa morale partire con una vittoria e deve essere un punto di partenza per lavorare durante questa stagione che sarà lunga. Calamoroso, Capelli al ventunesimo del secondo tempo di testa, da pochi passi, non inquadra lo specchio della porta però poi si riscatta e trova la rete del definitivo 1-0. Sì, il secondo tempo forse abbiamo avuto qualche occasione in più su azione rispetto al primo tempo dove erano più situazioni da palla inattiva. Diciamo che noi con Andrea partendo da esterno poi si trova spesso ad attaccare l'aria di rigore e sì, ha mancato due o tre occasioni su azione, poi ha fatto gol su una... è stato bravo, veloce, rapido, su una palla vagante, in aria, su una palla inattiva a fare gol. E manca poco davvero all'inizio del campionato domenica prossima, iniziare questo campionato di Serie D Corione che è ritornato qui al Ponte San Pietro dopo la conferma della passata stagione e quali sono gli obiettivi di questo Ponte San Pietro con tante incognite? Sappiamo innanzitutto di affrontare un campionato a 20 squadre, quindi lungo, speriamo di poterlo affrontare con continuità sperando nella situazione epidemiologica e l'affrontiamo sapendo che ci sarà tanto equilibrio e ogni domenica ci sarà da preparare bene le partite per poter trarre il massimo da ogni partita fare più punti, logicamente sappiamo che il primo obiettivo è quello di raggiungere la permanenza in Serie D e dobbiamo imparare dalla passata stagione, quindi prima sistemiamo l'obiettivo della permanenza in Serie D prima possiamo alzare poi l'asticella, però un passo alla volta siamo a inizio settembre, abbiamo fatto una partita di Coppa Italia il calendario sarà fittissimo perché giocheremo sei partite in poche settimane quindi ci sarà bisogno di tutta la rosa adesso mi preme che tutti i ragazzi si portano a un livello di intensità alto perché avremo bisogno di tutti